Cosa sta realmente accadendo tra Sosso Aruta e Ursula Bernardo? È questa la domanda che molti fan di Uomini e Donne si stanno ponendo di fronte alle ultime news sulla coppia del trono over Fatti e parole iniziano a non corrispondere, cosa che scatena molti sospetti sul web sulla coppia Se in studio, Ursula si dice single e ben lontano dall'accettare di dare una seconda chance a Sosso, fuori da questi due sono stati avvistati insieme, in metropolitana, in atteggiamenti ben altro che ostili Dopo questa segnalazione, ne è arrivata anche un'altra al portale Isa e Chia volevo dirvi che ho appena avvistato Sosso Aruta e Ursula Bernardo insieme sulla metro a Roma Erano abbracciati e mano nella mano. Ha scritto una fan dello show, allegando anche delle foto dei due Sosso e Ursula nel mirino del pubblico.È di fronte a queste prove che nasce l'idea del pubblico che i due stiano fingendo di essersi lasciati solo per rimanere nello studio di Uomini e Donne e avere ulteriore visibilità In studio litigano e dicono di voler conoscere altre persone perché sono single, poi fuori stanno insieme Tutta scena per rimanere sotto le telecamere. Scrive qualcuno sui social di Uomini e Donne In effetti, le immagini cozzano anche con le ultime dichiarazioni rilasciate da Sosso al magazine di Uomini e Donne Sinceramente penso che Ursula si sia un po' montata la testa. Sono in molte ad apprezzarla e lei si è fatta un po' prendere la mano Aveva dichiarato il cavaliere, per poi aggiungere, a Ursula piace questa nuova situazione da single Anch'io da oggi mi sento e reputo single. Posso tornare a fare tutto ciò che voglio Di certo ora i fan attendono spiegazioni Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like